Un saluto da Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale, dentisti Moldavia. Vuoi sapere cosa è la piorrea, come vengono classificate, quali sono i materiali che possiamo utilizzare, dalle strutture agli impianti, la suddivisione tra le varie branche di impianti dentali, come concettualmente va approcciata un'analisi del caso e come deve essere poi congegnata in equip la ristrutturazione della bocca. Trovi tutto qui sotto. Questa pagina trovi un campus di oltre tre ore e mezza, dove ti spiego la logica che utilizza un dentista quando deve pianificare un piano di cura, come ragiona un dentista sui materiali, su come li accoppia e quale sarà poi il futuro anche delle riabilitazioni complete, sino ad arrivare alle tecniche più innovative. Dai uno sguardo qua sotto alla sezione dove troverai tante risposte alle tue domande. Poi se vuoi una lettura personalizzata del tuo caso, basta che clicchi quest'altro bottone qua di fianco, carichi la radiografia e abbiamo l'equipe pronta insomma a fare un'analisi più concreta di quello che è il caso. Se hai delle domande, dei dubbi, faccele sapere perché questa è una sezione che andrà piano piano a allungarsi col tempo. Molte cose magari non le abbiamo messe perché noi dentisti non ci pensiamo, ma che magari non trovi qua sotto, noi facciamo il video e lo carichiamo. Un saluto dalla Moldavia.